Il flemme Il flemme Che cos'è il flemme? Il flemme sono due colpi molto vicini l'uno all'altro ma di diversa intensità ovvero una nota più bassa l'altra nota più alta ma sono molto vicini, non uniti, molto vicini e danno questo effetto schiacciato ovvero per esempio facendo il flemme con la destra cioè la parte finale del colpo con la destra abbiamo la mano sinistra leggermente alzata dal rullante che fa un tap stroke ok? Appena fa il tap stroke, la sinistra, questa qui si abbassa ed abbiamo un effetto schiacciato l'effetto inverso con la destra giù e la mano sinistra su Ok? Questo Mi raccomando che siano due colpi vicini l'uno all'altro, non troppo vicini altrimenti si sovrappongono e non abbiamo l'effetto flemme ma abbiamo questo che non c'è ma neanche troppo lontani per cui avremo questo è troppo largo ok? Quindi dobbiamo fare in modo che tutti e due i colpi di diversa intensità siano ravvicinati tanto da avere l'effetto schiacciato Ok? Ciao!